Ben trovati amici alla rassegna stampa di Fano TV, oggi è martedì 4 ottobre 2022. E dobbiamo subito dire che oggi per quanto riguarda l'almanacco si festeggia un grande santo, un grande santo veramente, San Francesco d'Assesi, lo vediamo qui nella grafica, San Francesco patrono d'Italia, e beh che dire, è difficile sintetizzare quello che è stato, quello che ha rappresentato e che cosa e come ha vissuto San Francesco. E' un grande santo, un santo della povertà, un santo della predicazione del Vangelo, soprattutto della messa in pratica del Vangelo per il quale fece la sua missione di vita. Ricevette le stigmate nel monte della Verna, dove passò portò la benedizione di Dio, la pace tra le fazioni, l'amore tra i nemici, convertì i peccatori, salvò i miserabili, protesse gli oppressi. Abbiamo detto tutto di quello che è stato San Francesco, ma è stato anche molto, molto di più e quindi è un esempio da seguire. Insomma, San Francesco, il cui nome viene ancora oggi usato per battezzare tanti, tanti bambini nel suo nome, nel suo esempio. Ebbene, passiamo ora alle previsioni del tempo. Vediamo come il tempo sulle Marche si mantiene con dei cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con un transito di velature al pomeriggio. E a proposito di velature, abbiamo avuto la sorpresa questa mattina di trovare la nebbia, il primo giorno di nebbia di questo autunno. Da Fano, Montegiove, ormai quasi non si vedeva, quindi c'è questa foschia mattutina che probabilmente nel corso delle ore della giornata si eliminerà, insomma, tornerà il sereno. I venti saranno moderati, la temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 15, il mare è poco mosso. E diamo un'occhiata anche alla situazione di Fano, vediamo piazza 20 settembre. L'abbiamo vista nei giorni scorsi e ancora i colori non risaltano, ma tra poco saranno molto, molto più luminosi. Pochissima gente ancora è presto in piazza, comunque le strade si stanno animando perché la gente sta recandosi al lavoro e gli studenti a scuola. Ed ora diamo un'occhiata alle notizie che ci propongono i giornali questa mattina, a partire dal resto del Carlino. Vediamo che l'apertura è dedicata ad una iniziativa che si perpetuerà per tutta la settimana. Visite senologiche, niente scuse, a ottobre la prevenzione è gratuita. Lotta ai tumori, ecco, questa è la settimana dedicata alla lotta ai tumori. E anche Fano, come tante altre località, cerca di attivare l'attenzione in merito alla prevenzione, che è l'unica cura sicura, decisa contro questo male che ancora infierisce con livelli molto alti su tutta la nazione. Comunque dei progressi anche per quanto riguarda la cura sono stati fatti in maniera eclatante. Lotta al tumore negli ambulatori del Santa Croce, professionisti a disposizione. Ecco come prenotarsi. Diciamo subito che tutto è gratuito. E Fano si tinge di rosa per il mese di ottobre, che in tutta Italia è dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Ricco il programma delle iniziative che è stato presentato ieri nella sala della Concordia dell'Amministrazione del Palazzo Residenziale Palazzo Comunale di Fano. Vediamo qui il sindaco e l'assessore alle pari opportunità, Sara Cucchiarini, con tutti i rappresentanti delle associazioni che aderiscono a questa iniziativa. L'aspetto più importante è questo. Le visite gratuite agli ambulatori senologici del Santa Croce verranno effettuate tutti i martedì e i mercoledì di ottobre dalle 14 alle 15 e 30 e i sabati dalle 8 alle 22, il sabato 8 e 22 ottobre dalle 9 alle 10 e 30. Scusate un attimo la confusione. Il sabato 8, 8 è il giorno del mese e 22 giorno del mese di ottobre dalle ore, dalle ore 9 alle 10 e 30. E si prenota attraverso l'associazione Fior di Loto, telefonando al numero 392 483 8335. Lo ripeto, il numero 392 483 8335. Dalle 17 alle 18 e 30. Visite gratuite e senologiche anche attraverso la LILT, che è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, scrivendo un'adesione alla posta elettronica all'indirizzo lillipu.gmail.com E vediamo anche per dare visibilità, per dare evidenza a questa iniziativa, ci sono dei monumenti che sono tinti di rosa, un colore evidente, un colore anche che tende al rosso, e in modo particolare l'arco di Augusto a Fano. Spesso purtroppo la diagnosi arriva troppo tardi, lo ha dichiarato ieri in conferenza stampa Cesare Magalotti, che è direttore della Breast Unit all'ospedale Santa Croce di Fano. Ci sono diversi pazienti, ha dichiarato, che arrivano al centro di senologia dichiarando di non aver fatto controlli negli ultimi due anni per paura di ammalarsi in ospedale. Ebbene, questa è una fact news. Faccio presente, ha detto, che io sono andato a lavorare tutti i giorni e non mi sono mai ammalato, ha detto Magalotti. Soprattutto negli ultimi mesi abbiamo diagnosticato diversi tumori avanzati alla mammella, anzi, direi all'ultimo stadio. E questo è molto preoccupante. Ed ora cambiamo notizia. E vediamo l'avventura preoccupante che ha subito un insegnante. La mia carriera di prof infangata per un equivoco. Parla così Luca Bodini, che era docente di musica in un liceo fanese. E racconta la sua sospensione dal lavoro per avere sfiorato la caviglia di una collega. La sentenza del giudice gli ha ridotto la pena. Prima aveva una pena considerevole. Era stato condannato, era stato accusato, anzi, di un atto invasivo della sessualità della collega. La sospensione è stata poi ridotta a due mesi e mezzo. Ma ora il giudice del lavoro, Paganelli, a distanza di tre anni, ha immesso una sentenza ancora più riduttiva, pari a un mese di sospensione. Quindi lo Stato ha dovuto rifondere l'insegnante dello stipendio che gli era stato sottratto per un mese e mezzo. Si tratta di un professore, il nome è quello di Luca Bodini, 44 anni, che è finito nei guai durante un collegio docenti. Aveva richiamato l'attenzione di una collega toccandole il collo del piede con l'indice della mano destra, visto che sedeva con le gambe accavallate vicino a lui. E questo è stato considerato un reato di carattere sessuale. E vediamo anche in questo articolo, con un fondo scuro, quello che è accaduto a due femministe fanesi. Sono state condannate dal giudice per aver partecipato ad una manifestazione non autorizzata. avevano organizzato una contromanifestazione a quella delle sentinelle in piedi che taccava il DDL-ZAN sulla omotransfobia. Finiti a processo per quella donata non autorizzata, ieri il caso si è chiuso davanti al tribunale con la condanna di due femministe fanesi a un mese d'arresto e 120 euro di ammenda. Mentre è stato assolto Giulio Verna insieme a tre manifestanti uomini e Giulio Verna è uno degli esponenti dell'associazione Grizzly. Per tutti e cinque il PM Federica Guarrelli aveva chiesto dieci giorni di arresto e 100 euro di multa a testa. Invece queste due femministe hanno avuto un mese d'arresto e 120 euro di ammenda. Quindi il giudice ha combinato una pena superiore a quelle delle richieste del PM Federica Guarrelli. Ed ora parliamo di questo grande impianto fotovoltaico che una società ha chiesto di realizzare nel territorio di Carrara, tra Carrara e il comune di Cartoceto. Un maxi impianto, ci opporremo. Ci opporremo, l'hanno detto, sia il comune di Cartoceto che il comune di Fano. E ieri c'è stata una precisazione da parte del sindaco Massimo Serie e del vice sindaco Cristian Fanesi intorno all'atteggiamento delle comune su questo provvedimento che è ancora il più invasivo. Carrara è già stata sacrificata molto dalla realizzazione della centrale elettrica ed ora anche dall'ampliamento della centrale elettrica punto di partenza dell'Adriatic Link un elettrodotto che dovrà collegare le marche passando poi sotto il fondo del mare all'Abruzzo. Ebbene, ora sono privati non è Terna che realizza quest'ultima cosa è una società privata che vuole realizzare un campo fotovoltaico molto ampio pari a 60 campi da calcio l'estensione di 45 ettari tra Cartoceto e Fano. Ebbene, il comune di Fano ha detto no in merito ad un parere che ha richiesto la regione Marche il comune di Fano ha detto di no prima di tutto perché è contrario al piano regolatore vigente e poi perché c'è una legge stessa varata dalla regione che dice che queste realizzazioni non si possono fare nelle aree di versante proprio le aree individuate dalla società che vuol fare questo impianto. Quindi due pareri negativi Cartoceto e Fano contro la realizzazione. Il sindaco ha detto sì, sappiamo quanto la produzione di energie alternative sia importante ma non si può infierire sul territorio di Carrara già abbondantemente compromesso da impianti invasivi. Ed ora passiamo ad Urbino a Urbino vediamo che gli studenti sono al voto per gli organi dell'Ateneo domani e giovedì sono urna aperte ci sono due liste per eleggere i rappresentanti nel Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione. Da una parte c'è Universo Studenti unica lista presentatessi già alle elezioni studentesche del 2020 dall'altra c'è azione universitaria studenti fuori sede formazione con una rete estesa e varia università apparsa a Urbino nel mese di maggio e quindi entrambe cercheranno di eleggere i propri rappresentanti nel Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione. Le elezioni si terranno domani dalle 12 alle 18 e giovedì dalle 9 alle 18 si svolgeranno nelle sedi dell'Ateneo appunto per eleggere gli organi della Carlo Bo ed ora diamo un'occhiata anche a questa pagina questa grande pagina che il resto del Carlino ci propone questa mattina nel settore degli spettacoli si parla di Leoncillo Leoncillo Leonardi un artista che ha a che fare con la materia è uno scultore è uno scultore che a Fano realizzò un'opera nel momento in cui era giovanissimo ed era quasi sconosciuto realizzò le formelle dell'altare della chiesa di San Leonardo in piazza 20 Settembre una chiesa dalla facciata barocca bellina che fa da sfondo alla vista della Fontana della Fortuna ma entrando dentro si ha una sorpresa entrando dentro vedendo un ambiente completamente moderno abbiamo una via Crucis realizzata nel 1950 e un altare con delle formelle in maiolica ebbene queste formelle sono formelle di autore che ora vengono valorizzate in maniera appropriata la mostra su Leoncillo Leonardi è stata prorogata è in atto in questo momento a Palazzo Bracci Pagani è una realizzazione della Fondazione Carifano è stata prorogata fino alla fine di ottobre e quindi potrà essere visitata volendo anche dalle scuole dagli studenti vediamo le pagine pesaresi del resto del Carlino e vediamo come si parli diffusamente della situazione del Partito Democratico dopo la sconfitta elettorale sedi vendute e carte di credito per la tessera sì per fare per essere soci del Partito Democratico per avere la tessera di carattere politico occorre pagarla con la tassa di credito è stata una disposizione questa del segretario nazionale che penalizza le iscrizioni dato che molti non hanno la carta di credito oppure insomma è un lavoro un po' macchinoso se ne lamenta in questo caso Andrea Salvadori che è il segretario del circolo PD di Villa Fastigi Villa Fastigi è stata una delle poche sezioni dove il PD ha tenuto anzi ha superato Fratelli d'Italia che però è lì che gli morde la coda insomma è il secondo partito ebbene Salvadori ha molto di che lamentarsi e ci sono problemi anche di rapporti all'interno del Partito Democratico e questo non depone certamente per l'unità e per la rinascita di questa grande forza politica il gambero ora parliamo parliamo di vini parliamo di vini perché ha sorpreso una recensione del gambero rosso molto molto penalizzante per la produzione vinicola della nostra provincia ebbene cosa dice gambero rosso gambero rosso dice la parte della cenerentola se la cuce addosso il pesarese della cenerentola facciamo gli ultimi agli sforzi comunicativi e organizzativi dei volenterosi interpreti del San Giovese e del Bianchello non fa seguito un innalzamento dell'asticella che misura la bontà insomma non siamo molto ben messi in qualità quello che preoccupa dice il gambero rosso è l'imbattersi non di rado in vini impersonali talora sgraziati o apertamente sbagliati frutto di letture sin troppo originali o sfocate sperimentazioni insomma una vera e propria stroncatura e il resto del calino lo mette in evidenza la stroncatura evidenza ebbene insorgono i produttori di vino della nostra provincia dicono non è vero la nostra produzione è apprezzata da tutti e ne parlano tre rappresentanti del territorio fanese come Luca Guerrieri viticoltore di Piagge Roberto Lucarelli famoso viticoltore di Cartoceto e Gianfranco di Sante di Carignano sono tre volti nuovi i cui prodotti vengono così si assaggiano nei negozi nei ristoranti si possono tranquilli nelle vinerie insomma sono dei vini molto molto conosciuti e apprezzati torniamo a Pesaro e vediamo qualcosa sugli scavi di piazza del popolo dove purtroppo si è trovata l'acqua e quindi non si può raggiungere lo strato romano non resta che coprire gli scavi come Atlantide Pesaro di epoca romana risulta sommersa e non è possibile andare più in profondità veramente un peccato perché raggiungere il foro romano sarebbe stata una scoperta molto importante e ora si va avanti con la posa dei San Pietrini del nuovo pavimento della piazza che è l'oggetto reale dei lavori mentre purtroppo si metterà una strato di terra su quello che è stato scoperto ovvero i resti di natura medievale ed ora diamo un'occhiata anche a quanto ci ha lasciato Sabatini il presidente il presidente della fondazione Cari Pesaro ecco l'eredità di Sabatini in 17.000 libri è stata inaugurata la biblioteca che porta il suo nome nel trentennale della fondazione di cui fu guida per tanto tempo chi era Gianfranco Sabatini ebbene lo dice il professore Ivano Dionigi Gianfranco era un libridinoso libridinoso non libidinoso ma libridinoso è un elogismo che calza a pennello nella passione libraria di Gianfranco Sabatini i libri li leggeva davvero li custodiva a suo modo li amava in maniera perversa perché non si limitava come tanti di noi a comperarli ma aveva anche la spudoratezza di leggerli ebbene molti dovrebbero avere questa spudoratezza perché ci si arrecchisce in maniera spirituale in maniera culturale e Pesaro piange Alfonsina Tomassucci insegnante politica molto amata la pesarese è scomparsa all'età di 77 anni dopo un'allogorante malattia oggi ci sarà il funerale a muraglia un funerale laico tra le fondatrici dell'associazione la casa delle donne ha lottato per l'emancipazione della donna ad esprimere il cordoglio la vicinanza alla famiglia sono stati il sindaco Matteo Ricci e i vertici del partito democratico e poi i tantissimi ex studenti che amavano la loro insegnante un malvivente seriale siamo alla cronaca fugge dagli arresti voleva andare a ballare ma è stato preso era agli arresti domiciliari ed è evaso perché era stancato e va a fare delle serate a Fano la mattina dopo chiama il padre e insieme con lui si presenta dai carabinieri che lo stavano già cercando si tratta di un'e diciannovenne di Tavuglia di origini marocchine che nonostante la sua giovane età ha già un curriculum criminale di diverse pagine comunque ha avuto l'avvertenza di presentarsi ai carabinieri perché sapeva che prima o poi sarebbe stato condotto in caccia e comunque non ha resistito a quanto a quanto gli dava l'impulso della sua giovinezza ed ora passiamo al Corriere Adriatico l'apertura su questo giornale sulla pagina di Fano è dedicata al parco agrivoltaico il comune dice no non si può ferire ancora il territorio e su questa tabella abbiamo una sintesi delle dimensioni di quello che infierirà questa nuova produzione di energia elettrica se si farà nel territorio è un ritratto dunque del grande parco agrivoltaico sono 45 ettari l'estensione complessiva tra i comuni di Fano e Cartoceto 14 ettari la superficie reale dei campi coperti dai pannelli fotovoltaico i quali saranno alti 2,1 metri per quanto riguarda l'altezza minima da terra e sotto si potranno fare secondo le intenzioni della società che propone questa realizzazione delle colture agricole un ettaro è il terreno occupato dalla centrale di accumulo con impianti alti fino a 70 metri e 28,38 è la produzione dei megawatt la potenza nominale di produzione dell'energia elettrica in quest'altra pagina invece abbiamo una protesta dei residenti di via della colonna una strada da tempo a rischio occorre proteggere residenti e pedoni via della colonna un tempo era una strada chiusa e quindi c'era poco traffico ora da quando è stata aperta nell'area dell'aeroporto è percorsa da molte automobili che magari percorrono la strada a grande velocità e questo mette a rischio il transito degli utenti deboli ovvero delle biciclette e dei pedoni che cosa chiedono i residenti i residenti chiedono soprattutto un totem all'inizio della via per ricordare il limite dei 30 km orari un limite spesso non rispettato dagli automobilisti ma la seconda richiesta è quella di tutelare i pedoni con marciapiedi rialzati oppure con una pista pedonale protetta per spezzare l'eccesso di velocità servirebbe un passaggio pedonale rialzato prima di via novelli queste sono le richieste appunto dei residenti di via della colonna passiamo a Fossumbrone e vediamo invece qui come una bicicletta che passava sotto i portici del corso ha provocato un incidente investita da una bici nel loggiato sale la protesta contro i ragazzini i ragazzini un po' scapestri dopo l'incidente la signora va al pronto soccorso chieste misure per la diffusa indisciplina aveva avuto aveva riportato in questo incidente durante questo investimento un dolore al ginocchio il ginocchio che si era gonfiato e si era reso dolorante e poi vediamo invece che a Serra Sant'Abbondio il patrimonio dei camaldolesi di Fonte Avellana Fonte Avellana ha una nuova istituzione in più è stato allestito un centro espositivo multimediale una narrazione emozionale per quanto riguarda quanto hanno fatto i camaldolesi attraverso pannelli a supporti multimediali il centro offre al visitatore una narrazione emozionale ed immersiva sui luoghi e sulle testimonianze culturali naturali immateriali sviluppatesi attorno al monastero di Fonte Avellana quindi una immersione e una conoscenza di carattere di impatto visivo in più per quanto riguarda questa visita sempre molto bella a Fonte Avellana e con questa notizia abbiamo terminato la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani sempre alle ore 7 e per le notizie del giorno questa sera alle ore 20 e 30 vi ricordo Occhio la notizia su Fano TV le notizie del giorno commentate e così espresse da da Simona Zonghetti e questo è veramente tutto buona giornata a Autore dei sovrapposti